Costituire un comitato di garanzia composto dai rappresentanti delle associazioni ambientali cittadine con funzioni di sorveglianza e di controllo delle fasi di attuazione del piano di bonifiche e di messa in sicurezza della discarica in località Puro Vecchio. A questo scopo il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha indetto una riunione che ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti delle associazioni cittadine con finalità ambientaliste. Avvocato, le associazioni ambientaliste tranese affiancano le amministrazioni per vigilare sulla questione ambientale che a Trani assume una proporzione molto delicata? L'intervento delle associazioni ambientaliste di Trani è finalizzato unicamente ad un'attività di controllo quindi si plaude indubbiamente l'iniziativa dell'amministrazione cittadina come anche regionale affinché effettivamente, indipendentemente da quelle che siano poi le fasi successive di bonifica, di riabilitazione della discarica la società cosiddetta civile sia in grado di essere presente, di monitorare e controllare le varie fasi di ripristino della discarica. Un intervento indispensabile ritenuto tale dalle associazioni ambientaliste. Voi ritenete che sia da riaprire la discarica perché non tutte le associazioni sono d'accordo su questo? In questo caso, naturalmente, io non posso parlare per tutte le associazioni ambientaliste. Vi è una discussione in essere. Parlando unicamente come legambiente, io posso dire, visto che siamo abituati all'ambientalismo scientifico, che solo e unicamente laddove la riapertura sia funzionale alla bonifica, effettivamente solo e unicamente in quella direzione la legambiente potrebbe rivelarsi disponibile. Indubbiamente però la legambiente condivide insieme alle altre associazioni ambientaliste la filosofia rifiuti zero. Quindi una riapertura della discarica come concetto ideologico naturalmente non ci vede propensi. Perché è giusto condividere i percorsi, è giusto condividere le scelte, è giusto soprattutto aprire alla città e quindi anche ai comitati che si occupano del problema ambientale perché è evidente che il problema della discarica non è un problema che può essere del sindaco Bottaro o della sua amministrazione, ma è un problema della città. È giusto che sia affrontato insieme, è giusto che tutti sappiano cosa si sta facendo, dove si sta andando perché alla fine deve essere una partita che dobbiamo giocare tutti insieme.